Con Alessandro Fiumara sicuramente tanto entusiasmo per questa stagione che riparte. L'Abruzium è una squadra particolare, c'è tanto affetto, tanto calore, dirigenti appassionati, anche questo ritiro per una squadra di promozione è un lusso. Cosa ci puoi dire dello spirito che si respira in questo gruppo? Dicevo noi che abbiamo sempre avuto la società dalla nostra parte. Anche lo scorso anno, quando io ricordo la partita contro il Bottricello, abbiamo perso in casa 2-1 e abbiamo detto che è finito tutto. Anche quest'anno le trogettiamo sicuramente. Poi la società non ha mai mollato, state tranquilli ragazzi, che ce la faremo, ce la faremo e ce la faremo. Ci siamo riusciti e quest'anno stiamo facendo qualcosa di importante, già fare un ritiro in questa struttura che comunque è sempre stata caratteristica, anche per il Cosenza Calcio e per tantissime altre squadre, per noi è importante. Gli under si stanno ambientando bene, poi sono arrivati giocatori importanti come Giovanni De Giacomo, Cristian Lattari che ancora purtroppo non l'abbiamo visto all'opera perché è infortunato, Antonio Guardi che è tornato, penso sia una sicurezza in porta, e poi il mister naturalmente, anche se penso abbia fatto il corso di allenatore con Zeman, perché io una preparazione del genere non l'ho mai sostenuta, ci stiamo correndo per tutta casa alle Bruzzi. Poi abbiamo la fortuna di avere Giuseppe come magazziniere che non ci fa mancare nulla, ti ripeto, più contenti di così si muore. Allora sicuramente dobbiamo anche dire che si vuole un pochettino alzare l'asticella, perché sono due anni che arrivano salvezze veramente sofferte, ora la società vorrebbe divertirsi un po' di più, vi sta mettendo secondo me in condizioni per poter ambire a qualcosa in più. Assolutamente, anche perché ci siamo annoiati anche noi stessi di arrivare sempre con l'acqua alla gola, l'ultima giornata, sempre play out, sempre fuori casa, ora basta, non ce la facciamo più, sono due anni che arriviamo stanchi mentalmente, infatti il mister non fa altro che dire resettate tutto perché sarà un'altra annata, noi ce la metteremo tutti e speriamo che sia veramente così. In bocca al lupo. Crepi.